secondo le statistiche di youtube solo l'un per cento di guarda i miei video iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie la sua si vede che è di razza la mia notte ma quanti anni c'ha è proprio buona oddio 4 anni tra due giorni però l'ho vista un po' incazzata si perché l'ho presa e si è incazzata perché l'hai disturbata bellino e poi buona cosa che mi fa ridere è che tipo tra due giorni c'è quando scade sto latte mi ricordo deve vedere aspetta non mi ricordo dove dove sta aspetta mi sa di l'amena armando un secondo è c'è un po' di caos qui eccola è questa ma a te piace l'asmr però sei sincero a me piace finalmente che c'è qualcuno che me lo dica in faccia c'è nel porca puttana porca puttana ragazzi madonna santissima no ma non mi sta sentendo non mi sento lui ma intanto non si è fatto male sto sputata addosso ragazzi mi sto sputata addosso da sola vanno bene entrambi i numeri è giusto te l'asta ci sta hai ragione comunque grazie vabbè fate preganti in un mese è capito ed è una cosa che non è da tutti quindi sono fiero perché io solitamente capito non mi do i meriti dico vabbè no no è vero è oggettivamente una cosa che pochissimi in italia possono fare quindi se lo fai che poi viene contestato che poi uno possa contestare i mezzi con cui ci arrivi a me non mi interessa cioè io ci sono arrivato nell'ultimo mese esempio adesso sto fare una chiacchiera con te hanno messo sta funzionale vabbè alzati cioè famiti tutta la muscolatura aspetta aspetta a sinistra c'è i tatuaggi quindi non si vede bene ma che cazzo te mangi allora devo essere sincera ho visto un po' di puntate di bodybuilding cioè puntate ma è capitato di vedere gare così è vero che ste ragazze che non hanno praticamente il seno no perché hanno tutto muscolo sottirate ma poi ste gare le bodybuilding se fanno nudi cioè nel senso in intimo dai svegliati è venuta gattonando verso di me lo sapevo va va